Un saluto ai lettori di Army Magazine, oggi siamo alla Cascina Allegra di Valdinizza e con noi c'è Valerio Poletti e vi presentiamo la Remington Sendero in calibro 7 mm Remington Magnum e vi mostreremo come montare un'ottica e poi la proveremo a fuoco. Adesso lascio la parola a Valerio che vi spiegherà un po' come si monta l'ottica. Ok, allora partiamo dagli anelli e dalle basette. L'ottica, la carabina questa la vediamo più è nuda e cominciamo a metterci le basi, la base davanti e la base dietro con le relative viti di fissaggio. Prima abbiamo inserito la basetta. La basetta poi dobbiamo ancora toglierla, però per toglierla adesso abbiamo bisogno del tubo altrimenti non riusciamo a togliere la mano. Noi mettiamo queste basette qui, l'operazione andrebbe fatta, oggi facciamo in questo modo, però dato che la basetta sicuramente non copierà perfettamente il raggio dell'azione, ci andrebbe fatto una resina per poter copiare al centesimo e per evitare di togliere tutte le tensioni che possono verificarsi durante il montaggio. Perché le tensioni sono quelle che poi portano a problemi sulla prestazione dell'arma. Comunque adesso mettiamo le viti sulla basetta senza tirare tanto, appena appoggiate, per poter poi metterci il, ecco, queste sono le viti. ci mettiamo un tubo che è un tubo diametro 30, stesso diametro degli anelli e del canocchiale, è un tubo rettificato, fissiamo un tubo rettificato, fissiamo fissiamo il tubo, prendiamo cacciavite, togliamo queste viti, in questo caso questo è un tipo particolare di attacco con queste viti di regolazione che regolano anche l'orientamento in senso orizzontale dell'ottica. Ok, in questo caso adesso siamo in condizioni di poter togliere gli anelli. a questo punto abbiamo le sole due basette e adesso le fissiamo. Ovviamente come ho già detto prima andrebbe fatta una resina per farsi da fare, da ottenere un accoppiamento perfetto e senza nessun tipo di tensione. queste viti vanno tirate in modo con decisione insomma. senza esagerare però queste le viti qua hanno già tipo un freno a filetto già sulla vite quel colore azzurro che c'è è il freno a filetto che crea un po' di di attrito di attrito cioè che si allentia esatto. Comunque la vasetta adesso è avvitata. adesso ci mettiamo il ci mettiamo posizioniamo la l'ottica gli anelli in in direzione più o meno lo mettiamo circa in direzione poi verifichiamo. Vedi questo azzurro qui è un freno a filetto che è già sugli attacchi sulle che sono sulle sulle state Questa operazione Questa operazione è un'operazione importante perché l'importante è che le regolazioni dell'ottica sia in senso verticale che in senso orizzontale siano a metà per avere prima di tutto un po' di spazio, più spazio possibile in caso di regolazione per la taratura. Seconda cosa, anche perché le regolazioni quando sono a metà poi sono più... Va meglio, ecco. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Purtroppo non ho a disposizione il visorino da mettere davanti altrimenti... Comunque adesso ci tolgo il tubo, ci metto l'ottica e verifico un attimino l'allineamento, casomai poi ricorreggo. Adesso ci appoggio l'ottica. È sufficiente così appoggiata per capire comunque... Sede. Adesso direi che la direzione c'è, direzione c'è perché ho collimato diciamo un punto... Ok, le regolazioni vengono fatte con le due viti? Con le due viti qui, spostandosi, spostando qui si fa sì che l'ottica sia perché è circa centrata. Poi si lavora con la torretta, con la torretta laterale, però intanto la regolazione c'è. Allora a quel punto qua adesso di nuovo ci metto il tubo. Ci rimettiamo il tubo perché il tubo tiene sempre allineato gli anelli. Ok. Perché io non posso lavorare qui con chiudere le viti e spostare perché sposterei solo l'anello dietro e non l'anello davanti. Deve muoversi tutto insieme. Ok. Per evitare che ci sia, quando metteremo l'ottica, che ci sia una tensione perché se gli anelli non sono perfettamente allineati l'ottica viene montata in tensione. o per così o per così, quindi non è corretto fare questa cosa. Comunque il montaggio dell'ottica comunque è un'operazione abbastanza lunghina e abbastanza, se la fai correttamente, è abbastanza complessa e comunque importante. Io adesso chiudo qui, blocco qui, blocco le vite laterale. Ecco, chiuso. Ciao Dante, adesso tuorgo di nuovo il tubo. Così abbiamo già un allineamento molto valido. Già così. Ok. Adesso, avendo messo il tubo, sicuramente abbiamo già un allineamento valido. Per migliorare questo allineamento, bisognerebbe adesso prendere un po' di pasta abrasiva. No. No. Noi la mettiamo un pochettino qui sui due anelli e cerchiamo di fare una lappatura in modo che noi portiamo l'allineamento in un modo perfetto. guardiamo un pochettino qui sugli anelli. Ok. Grazie. ecco. E adesso ci metto il tubo e inizio l'operazione di lappatura. ecco. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono dei punti in cui viene tolto un po', si vede proprio un po' la brunitura in alcuni punti ed è proprio quel piccolo errore che comunque si verifica montando solo con il tubo senza fare questa operazione di lappatura. Bene, io direi che adesso gli anelli sono perfettamente allineati. Ok. Si vede comunque dove è stata tolta la brunitura. Adesso possiamo montare l'ottica. I piloti bisogna avere attenzione quando si chiudono gli anelli di lasciare più o meno uno spazio uguale sia a destra che a sinistra. Allento un po', verifico la misura che dovrebbe essere circa sui 29 cm, una misura standard. Un po' seconda di uno, circa 29 cm. Poi ognuno la regola in base alla forza... In base a uno come è al braccio più grande, comunque diciamo si va dai 28 ai 30 cm da qui alla punta del calcio. C'è la solita regola di non tirare mai sempre una tutta... No, tirarle un po' tutte in modo uniforme, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' davanti, fin quando... Adesso verifico un attimino che sia... Che sia più o meno reticolo... Che sia reticolo... Se ioاخ un po' a destra, un po' aTwitter... Che magari pare... ...ge take al nostro Comme, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dalla canna e dall'ottica. Una regolazione di massima. Sì, di massima per vedere di comunque prendere il bersaglio al colpo, poi fai le regolazioni. Ok, saremo a posto per poter andare adesso a provare sparando sul bersaglio. Perfetto. Vabbè, magari sì. Magari sì. Magari sì. Buongiorno. 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 Buongiorno.